BASCHETTARI IMPENITENTI O SEMPLICI NUOVI APASSIONATI Bentornati ad In The Paint, il magazine di per sempre news e per sempre Napoli sul basket italiano-europeo-internazionale, carrellata supersonica del basket italiano cominciamo subito con i risultati del settimo turno di Lega Basket Serie A Unipol Sai cominciamo con la vittoria della Virtus Segafredo Bologna per 91 a 77 sulla Nutribullet Treviso vince anche la generazione vincente Napoli Basket sull'Open John Mattis Varese 97 a 96 altra vittoria casalinga invece è quella della Dinamo Sassari che interrompe la sua striscia negativa e da seguito la vittoria ottenuta in Basketball Champions League superando per 80 a 73 la Dolomiti Energia Trentino vittoria anche a sorpresa della Givova Scafati sulle A7 Emporio Armani Milano che adesso è davvero in crisi, vince l'Umana Reier Venezia contro una combattiva Epicasa Brindisi 79 a 71 vittoria anche qui interna non ci sono stati successi esterni per 96 a 92 della Carpegna Prociutto Pesaro sulla Bertramma Tortona, 95 a 82 invece il risultato di una Hotel San Reggio Emilia Estra Pistoia vince anche la Germani Brescia per 84 a 75 sulla Vanoli Cremona in classifica comanda la Germani Brescia per coefficiente canestri con 12 punti così come 12 punti sono quelli di Virtus, Segafredo, Bologna e Umana Reier Venezia Dolomiti Energia Trentino, Gevi Napoli e una Hotel San Reggio Emilia seguono a quota 10 a quota 8 invece Givova Scafati e A7 Emporio Armani Milano a quota 6 invece Carpegna Prociutto Pesaro, Manoli Cremona e Bertram Tortona a quota 4 Open John Metis Varese Estra Pistoia e Banco di Sardegna Sassari a quota 0 invece ancora senza successi Nutribull e Treviso e Epicasa Brindisi andiamo partita per partita velocemente 91 a 77 dicevamo vittoria per la Virtus Segafredo Bologna che vede ridursi il proprio vantaggio di 11 lunghezze quando ormai la partita era bella che definita si svolta infatti alla boa del trentesimo minuto con un vantaggio di 25 punti per la Virtus Segafredo 72 a 47 dopodiché è tutto un giro di giocatori che hanno visto meno il campo in questo inizio di stagione migliore in campo per la Virtus Tornike Schengeli ha 20 punti per lui 10 rimbalzi e 5 assist per 35 di valutazione fa un po' paura però la situazione di Jordan Miki uscito dopo appena 4 minuti di gioco con qualche problema alla caviglia in doppia cifra però per le Vunere ci vanno anche ha avuto Abbas con 19 punti 2 su 5 4 su 7 dalla lunga distanza 3 rimbalzi e poi anche Isaia Cornier 16 punti per lui in 24 minuti con anche 7 rimbalzi e 4 assist in casa Treviso invece in doppia cifra ci va Deshaun Booker con 15 punti 13 per il capitano Alessandro Zanelli 11 per Terry Allen 10 per Andrea Mezzanotte sfiora la doppia cifra Gora Camara ex di turno con 9 punti e 5 rimbalzi c'è da dire però che la situazione della Nutribullet era ancora peggiore perché non mancava solamente Kai Bowman ma anche all'ultimo secondo James Young restato a casa per sindrome influenzale l'altro anticipo è quello del Pallabarbuto una partita bellissima tra Napoli e Varese Napoli che rischia dopo aver messo in cassaforte il risultato negli ultimi secondi subendo una tripla senza senso di grandissimo talento di Davide Moretti e poi sbagliando una rimessa che poteva essere fatale la palla va di nuovo a Moretti ma stavolta prende il ferro i migliori in campo c'è da una parte un signore che risponde al nome di Jacob Pullen 33 punti in 29 minuti per il giocatore ex tra le altre di Barcellona e Virtus Bologna con 7 su 12 dalla lunga distanza aggiungeteci anche 6 assist in doppia oltre il ventello ci va Tomislav Zucic 24 punti per lui con 6 su 9 da 2 un brutto 1 su 6 da 3 no polveri bagnati alla lunga distanza ma anche 4 recuperi e 3 assist 28 di valutazione in doppia cifra per Napoli anche Tariq Owens 15 punti a 8 rimbalzi Mikhail Sokolovsky 12 punti per quanto riguarda invece la formazione ospite 5 uomini in doppia cifra il migliore in campo Sean McDermott con 20 punti 14 per Vinny Shahid 12 per Olivier Alain 13 per Davide Moretti e 13 per Gabe Brown diciamo Moretti una prima parte un po' anonima in campo dopodiché nel secondo tempo gioca una partita spaziale non riuscendo tuttavia ad avere la fortuna sul tiro finale ma prima erano arrivate due triple di qualità da campione assoluto andiamo invece a casa Sassari perché la Dinamo con un secondo quarto spaziale nonostante l'assenza di Usman Diop e la non avvenuta firma di Taylor Smith che non ha superato le visite mediche vince per 80 a 73 contro una delle squadre del momento la Dolomiti Energia Trentino al pala Serra di Migni il 30 a 6 del secondo quarto è decisivo la Dolomiti Energia prova a rientrare con un 21-8 nel finale ma era già sotto di 20 punti difficilissimo se non impossibile rimontare una vittoria che quindi dà ossigeno a Piero Bucchi e che si basa soprattutto sulla prestazione di Brinta Eri e Vasilis Haralan Populos 20 punti a testa per quanto riguarda poi il Greco 4 rimbalzi e 3 assist per 28 di valutazione 5 rimbalzi e 2 assist per lo statunitense in doppia cifra ci vanno anche Stefano Gentile 15 punti e Stefan Gombo 14 punti conditi da 9 rimbalzi il tutto con le rotazioni all'osso mentre per Trento miglior realizzatore Prentis Hub con 18 punti in doppia cifra ci vanno anche Andres Graciulis 12 Calamar Boldwin 11 e Mattia Udom De Lule Queen Ellis che fa solamente un punto in 25 minuti con 0 su 5 dal campo 5 rimbalzi 2 assist non è stata la miglior serata per il ragazzo nativo di Sheffield ma ha formatosi in Italia soprattutto a Capodorlando andiamo invece al Palamangano dove c'è l'impresa di giornata perché la Givova Scafati supera Lea Sette Emporia Armani Milano per 77 a 68 pesano le buone percentuali dalla lunga distanza 54,5 12 su 22 da 3 contro il pessimo range dell'Olimpia che tira con il 19% 4 su 21 ma è un'Olimpia che è in crisi cade sotto i colpi di Alessandro Gentile 15 punti molti dei quali nel finale quando Milano sembrava rientrare nel punteggio 13 mentre Rivers 10 per Gerald Robinson e 13 per Capitan Rossato in ombra Cruz Pinkins che però paga il fallo il secondo fallo prematuro e viene poi gestito con il contadocce da coach Pino Sacripanti per quanto riguarda Milano 19 punti per Nicola Mirotic e 15 per Alex Poitres che sfiora la doppia doppia con i 9 rimbalzi ma c'è un problema a Milano e il problema è un allenatore che continua a cercare di intorbidire le acque ha scelto una strategia alla Mourinho ma dovrebbe assumersi le responsabilità che oltre agli onori conformano il doppio ruolo di allenatore e presidente delle operazioni basket cestistiche insomma dell'Olimpia Milano non c'è stata una sola autocritica non c'è stato anche in conferenza stampa un gesto di dire un gesto di scuse nei confronti dei tifosi Milano non può giocare così ed essere quattro vittorie e tre sconfitte con il budget a disposizione con i giocatori che ha firmato e se non viene firmato un playmaker adatto al gioco di Ettore Messina la colpa è del presidente delle operazioni cestistiche insieme al GM Stavropulos ma la colpa è innanzitutto di chi è al di sopra del GM e questo non viene mai assunto dopo la dichiarazione su Pengos forse non è il pilota giusto nessuno che gli chieda perché non fa autocritica visto che sulla sella di quella moto chiamata Olympia Milano o al volante di quella di quella monoposto chiamata Olympia Milano il pilota ce l'hai messo tu e non va bene continuare a dire sì ma sì però non va assolutamente bene andiamo invece a chiudere il discorso su questa partita parlando di Melli soffre Milotic probabile soffre una squadra che gioca con quintetti che non riescono a garantire spaziature questo è certo andiamo invece alla quinta gara che analizziamo quella del Taliercio una Venezia che con mestiere riesce ad aver ragione di una brindisi volenterosa nonostante le rotazioni ridotte davvero all'osso 79 a 71 per l'Umana Reier Venezia grazie soprattutto ad un secondo quarto in cui scava il solco 27 a 14 girando a più 10 viene rimontata nel terzo quarto che viene concluso da brindisi avanti di un solo punto dopodiché la formazione bianco-blu sudisce il ritorno di una squadra più profonda e sicuramente più in salute migliore in campo per quanto riguarda la Reier Ray-John Tucker 21 punti per lui con 10 su 10 dalla linea della carità pesano un po' le palle perse 3 solo da lui ma 23 punti 23 di valutazione a referto in doppia cifra ci va anche Marco Spissu 10 punti a cui aggiunge 5 rimbalzi e 6 assist prestazione all-around 14 invece per Amir Sims ritrovato dopo un periodo d'appannamento 15 quelli di Barry Brown Junior andiamo invece a vedere quello che sono le statistiche di Brindisi partitaccia per Jamel Morris appena 2 punti in 17 minuti migliore in campo è Xavier Sneed 21 punti 6 rimbalzi 7 assist 3 recuperi 28 di valutazione 15 invece per Lasevski e Jonas Risma entrambi molto importanti anche dalla distanza soprattutto Lasevski con 4 su 5 da 3 andiamo invece alla gara che si è disputata alla Vitrifrigo Arena di Pesaro nel secondo impegno casalingo la Carpegna Prosciutto riesce a superare finalmente il tabù di Vitrifrigo Arena battendo per 96 a 92 la Bertram Tortona complice anche un quarto periodo devastante dal punto di vista offensivo con 32 punti al referto una Pesaro che si aggrappa soprattutto ai 19 punti di Scott Banford con 3 su 6 da 2 3 su 7 da 3 4 su 5 ai liberi 4 assist buona la prestazione anche per Tremon Bloiet 13 punti per lui 14 per Riccardo Visconti con 3 su 4 alla lunga distanza 12 invece per Totè e Mokevicius con un vendutaggio molto favorevole all'italiano mentre il Lituano da poco arrivato mette in referto anche 6 rimbalzi con 16 di valutazione chiudiamo invece su Tortona che nonostante i 18 punti di Chris Dowie 20 di Kyle Wimsey e 21 di Mike Dome non riesce ad avere la meglio definitiva probabilmente la mancanza di Luca Severini giocatore importantissimo nelle rotazioni di Ramondino tuttavia questa Tortona non riesce a trovare un suo senso compiuto andiamo invece alla gara della Palabigi 95-82 vittoria importante che si gesta nel terzo quarto per la Luna Hotels in questa gara tutta biancorossa contro Pistoia 95-82 che arriva soprattutto alle prestazioni di Langston Galloway 24 punti con 5 su 10 alla lunga distanza e Kevin Hervey 21 punti 3 su 6 da 2 4 su 7 da 3 5 rimbalzi e 3 assist bene anche Briante Weber che mette in mostra una prestazione all round da 12 punti 8 rimbalzi e 4 passaggi vincenti per quanto riguarda Pistoia invece comanda Charlie Moore con 18 punti 15 per Payton Terrell Willis e 13 per Jordan Barnato che aggiunge anche 5 rimbalzi in doppia cifra ci vanno anche Ryan Hawkins 12 punti e Derek Obeyde doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi andiamo all'ultima gara della giornata il quasi derby visto che la Germania di Brescia nasce tra virgolette da una costola della Juvi Cremona rivale cittadina dell'Avanoli vince Brescia 84 a 75 su Cremona grazie soprattutto alla prestazione offensiva di Semaci Criston 16 punti e a quella di Sijema a Simburg 13 punti ma soprattutto punti segnati nei momenti importanti in doppia cifra ci vanno anche Miro Bilan 12 punti con 5 rimbalzi a referto e John Petrocelli 10 punti per lui non ci arriva della Valle fermo a 8 per quanto riguarda invece la Manoli non bastano i 17 punti a testa di De Negri e Grant Golden né i 16 del solito Marcus Zegarowski vero motorino di questa squadra vince quindi Brescia che si consolida in testa alla classifica per Cremona invece sconfitta più o meno in dolore per le ambizioni di salvezza visto che restano ancora 6 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione andiamo invece in Europa in Eurolega dove domani sarà prima giornata del doppio turno e sarà derby Virtus segrafredo Bologna e a 7 e poi gli armati di Milano scenderanno in campo alle ore 20 e 30 in diretta su Sky Sport e Dazon le altre gare del martedì 14 novembre Monaco Anadol UEFES Maccabi Tel Aviv Olympiacos Pireo Valencia Real Madrid derby spagnolo Stella Rossa Belgrado Fenerbahce mercoledì invece saranno di scena Alba Berlino contro Villiorban di Pozzecco Panathinaikos Zalgiris Kaunas altro derby spagnolo fra Baskogna e Barcellona e si chiuderà il programma con Bayer Monaco Partizan Belgrado in Euro Cup invece scenderanno domani in campo già alcune delle squadre in competizione nel gruppo B sarà la volta di Letka Belis Panevezis Turk Telecom Ancara nel gruppo A invece Prometeis Loposanke Apuel Slomo Tel Aviv gruppo B ancora Razio Farmulm Buducinos Volipodgorica e Minzilis Burgembrez Aris Saloni si chiuderà il programma del martedì con Joventut Badalona Pari Basketball valida per il gruppo A nella giornata di mercoledì invece trasferta per Romana Reier Venezia in quel di Vilnius contro i BC Wolves per il gruppo A sempre nel gruppo A sfida tra Vegittas e London Lions sorprendenti London Lions nel gruppo e sempre in questo gruppo Sede Vita Olimpia Lumbiana Veolia Tower Samburgo nel gruppo B invece sarà la volta alle 20 di Dolomiti Energia Trentino Cluj Napoca e Dreamland Gran Canaria alle 21 contro Slask Rockland Andiamo invece in NBA dove si sono giocate 11 partite valide per il turno di domenica notte nella notte tra domenica e lunedì vittoria per i New York Knicks per 129 a 107 contro i Charlotte Tornets a cui non bastano 32 punti 27 rimbalzi e 6 assist di Lamello Bold per i Knicks miglior realizzatore RJ Barrett con 24 punti 9 i rimbalzi di Mitchell Robinson 9 gli assist di Emmanuel Quickley vincono anche i Brooklyn Nets 102 a 94 sui Washington Wizards di Danilo Gallinari con 27 punti di Michael Bridges e una grande prestazione di Claxton al rimbalzo 13 le carambole catturate non bastano ai Wizards i 20 punti di Bidal Coulibaly vittoria esterna e ancora più crisi inferta ai Clippers per i Memphis Grizzys 105 a 101 allo Stable Center con 27 punti di Desmond Bain i Clippers perdono contro una squadra le cui rotazioni sono ridotte all'osso per le assenze con una giocata importante di Marcus Smart nel finale a suggellare la vittoria non bastano 26 punti di Paul George né i 9 rimbalzi di Russell Westbrook né i 7 assist dello stesso Paul George e c'è un problema e quel problema si chiama James Harden criticato asframente anche dal telecronista dei Grizzlies dopo aver dichiarato di essere lui il sistema e di non doversi adattare al sistema la frase è stata tu non sei il sistema tu sei il problema e probabilmente cercare la chimica fra 4 stelle come Paul George Russell Westbrook Kawhi Leonard e James Harden sarà veramente difficile per coach Tyron andiamo invece alla vittoria dei Philadelphia 76ers per 137 a 126 che li lancia 8-1 di record con 50 punti di Tyrese Maxey parlavamo di Harden ecco che chi era il suo cambio si scatena e ne segna 50 in una sola partita con l'apporto poi di Joel Embiid al rimbalzo 13 rimbalzi per lui vittoria anche per i Chicago Bulls sui Detroit Pistons 119 a 108 ai Pistons non bastano i 18 punti di Kevin Knox miglior realizzatore invece per i Bulls Demar De Rozan perdono per la seconda volta in 10 partite i Denver Nuggets campioni a cui non basta la tripla doppia innisima di Nikola Jokic 36 punti 21 rimbalzi e 11 assist mentre per i Rockets che trovano il sesto successo stagionale 26 punti di Fred Van Vliet vincono vincono anche i Dallas Mavericks in trasferta sui New Orleans Pelicans 136 a 124 miglior realizzatore stavolta è Kyrie Irving con 35 punti a referto non bastano ai Pelicans i 20 punti e 5 assist di Brandon Ingram ancora vittoria esterna stavolta ai Miami Heat sui San Antonio Spurs in rimonta grazie a 26 punti di Duncan Robinson non bastano agli Spurs i 20 punti e 12 rimbalzi di Keldon Johnson occhio a Victor Wembanjama che si diverte anche nello smazzare assist 6 7 anzi al referto per il francese numero 1 assoluto del draft 2023 un'altra vittoria di Oklahoma City Thunder sui Phoenix Suns con 35 punti e 7 rimbalzi di Shai Gilgis Alexander vittoria importante su una Phoenix in cui Kevin Durant prova a far pentolo e coperchi 28 punti e 9 rimbalzi ma non basta andiamo invece a concludere con le ultime due gare prima la vittoria dei Minnesota Timberwolves sul parquet dei Golden State Warriors 116 a 110 con un grande Anthony Edwards 33 punti per lui Carl Anthony Thomas invece 14 rimbalzi non bastano ai Warriors i 38 punti del solito immenso Steph Curry tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers e ritornano con parità nel loro record di stagione 5 vittorie e 5 sconfitte 116 a 110 sui Portland Trailblazers a cui non bastano 23 punti di Jeremy Grant per i Lakers invece 30 punti e 13 rimbalzi per Anthony Davis 11 invece gli assist di D'Angelo Russell andiamo a vedere la classifica e parleremo anche dell'in-season tournament cominciamo dalla classifica generale Conference ad Est 8 vittorie e una sola sconfitta per i Philadelphia 76ers seguiti da Boston Celtics poi Indiana Pacers e Miami Heat a quota 6 vittorie e 4 sconfitte quinto posto per i Atlanta Hawks sesti a chiudere la zona playoff sicuri gli Orlando Magic 5 vittorie e 4 sconfitte entrambi così come New York Knicks e Milwaukee Box settimi e ottavi rispettivamente la zona play-in si conclude con Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers questi ultimi primi ad essere con un record negativo 4 vittorie e 5 sconfitte 11esimo posto fuori dalla postseason in questo momento Toronto Raptors 4 vittorie e 5 sconfitte Chicago Bulls 4 vittorie e 6 sconfitte Charlotte Torrents 3 vittorie e 6 sconfitte Washington Wizards 2 vittorie e 7 sconfitte Detroit Pistons 2 vittorie e 9 sconfitte la vittoria dei Mavericks e la sconfitta contingente dei Nuggets crea una coppia in testa invece alla Western Conference con 8 vittorie e 2 sconfitte Denver Nuggets Dallas Mavericks sorprendenti invece Minnesota Timberwolves terzi con 7 vittorie e 2 sconfitte quarti ancora più sorprendenti Houston Rockets 6 vittorie e 3 sconfitte 6 vittorie e 4 sconfitte per gli Oklahoma City Thunder 6 vittorie e 5 sconfitte ultimo posto che garantirebbe i playoff i Golden State Warriors entriamo in zona play-in con Sacramento Kings 4 vittorie e 4 sconfitte 5 vittorie e 5 sconfitte invece per i Los Angeles Lakers 4 vittorie e 6 sconfitte per i Phoenix Suns 4 vittorie e 6 sconfitte per i New Orleans Pelicans fuori in questo momento dalla postseason Los Angeles Clippers Portland Trade Blazers San Antonio Spurs Utah Jazz e Memphis Grizzlies chiudiamo invece con una notizia di mercato dell'NBA perché secondo quanto rivelano alcuni insiders ci sarebbe molto fermento riguardo al mercato intorno ai Bulls che potrebbero decidere ad un certo punto della stagione di liberarsi di loro due selle principali ovvero De Martero Zan e Zach Lavin per cominciare un processo di rebuild staremo a vedere cosa potrà succedere dalle parti dell'Illinoise state sempre connessi con noi è tutto per oggi vi ringraziamo di averci seguito e abbiamo appuntamento la prossima puntata sempre qui sempre sul Parkin in the Paint ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!